Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alla pianificazione finanziaria in compagnia dei nostri consulenti, il dottor Cristian Gerotto e il dottor Sergio Nicosia. Buonasera. 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 E allora iniziamo stasera parlando di un acronimo, parliamo della PAC. Che cos'è dottore Gerotto? Il PAC, acronimo di Piano di Accumulo Capitale, è uno strumento abbastanza semplice e abbastanza, a mio modestissimo avviso, sottovalutato dalla maggior parte sia degli intermediari che delle persone comuni. Il Piano di Accumulo Capitale, per riallacciarci a quello che abbiamo detto qualche puntata fa parlando dei fondi comuni di investimento e delle SICAV, non è altro che l'acquisto di tali fondi in una modalità diversa, cioè anziché comprarli in unica soluzione, verrebbero acquistati in modo rateale, con rate mensili, trimestrali, quadrimestrali, in modo tale da poter in ogni caso comprare in più fasi di mercato, quindi disinteressarsi da quello che può essere il rialzo o il basso dei listini e in modo tale, in questo modo, da poter mitigare quello che è il rischio di mercato e poter approfittare del lungo periodo di quello che è il rendimento degli investimenti stessi. Quindi, Dottore Nicosia, così come afferma il Dottore Eggerotto, almeno così sembra che il Piano di Accumulo è il sistema più sicuro per proteggere i nostri capitali. E' certamente un sistema sicuro per investire nel momento in cui si va a scegliere come base un buon fondo comuni di investimento, una SICAV e diritto estero, quindi un bravo gestore e poi il Piano di Accumulo ha il metodo che ha la sua forza, la forza proprio sta nel metodo perché comprando, ad esempio, mensilmente o anche trimestralmente, si vanno a smorzare le oscillazioni del mercato. Quindi per chi vuole dedicare una quota del proprio patrimonio finanziario per andarlo a investire sull'azionario, il Piano di Accumulo può essere un'ottima idea anche perché non si deve, tra virgolette, indovinare il momento migliore per entrare sul mercato ma si può spalmare un capitale che si vuole destinare all'azionario in maniera più dilazionata nel tempo e gli alte e basse sui mercati ci sono, non si possono eliminare e il Piano di Accumulo consente con una disciplina automatica di poter comprare sempre soprattutto quando i mercati attraversano una fase di discesa perché si comprano più quote. Quando il prezzo scende, appunto, noi andremo a comprare più quote e quindi immagazzineremo dentro, diciamo, un maggiore potenziale di sviluppo poi nel momento in cui i mercati rimbalzeranno e ritorneranno nella fase positiva. Ma, Dottore Gerotto, esiste un piano che vada bene per tutte le famiglie? Allora, il Piano di Accumulo, diciamo, copre svariate esigenze della famiglia o del singolo. Viene utilizzato per le più disparate cose. Faccio un esempio, c'è chi lo fa per programmare il futuro dei figli quindi quando nascono fanno un Piano di Accumulo a 15-18 anni per consentire loro di avere un capitale alla fine che gli consenta di poter effettuare gli studi, come abbiamo detto pure nelle puntate precedenti. C'è chi più banalmente lo fa quando deve cambiare l'auto. Io mi accumulo un capitale e fra 5 anni mi cambio l'auto. Quindi si presta a svariati usi, anche perché è un tipo di investimento che non vincola, diciamo, i sottoscrittori in quanto uno può sospendere pure il versamento senza alcun tipo di penalità, può anche disinvestirlo parzialmente se c'è una determinata necessità, può andare a fare un versamento aggiuntivo qualora ne avesse bisogno magari quando i mercati scendono per cogliere qualche opportunità. Quindi controindicazioni, diciamo, non ne vedo ed è anzi un prodotto che, come dicevo prima, secondo me è molto sottovalutato. Quindi è esatto quello che dice il dottore Gerotto, cioè che non ci sono controindicazioni ad un piano di accumulo? Se alla base si è fatta una corretta analisi del motivo per il quale si accende un piano di accumulo assolutamente no, non ci sono controindicazioni. Un'altra cosa che possiamo dire a vantaggio, se ricordiamo il 2008-2009 o anche il 2001 quando i mercati azionari hanno perso parecchio in termini di punti percentuali di discesa, chi avesse optato per il piano di accumulo, quindi comprando gradualmente un mercato azionario, può essere un azionario internazionale, quindi in maniera ad esempio mensile o trimestrale, non solo avrebbe perso momentaneamente in quella fase molto meno rispetto a chi ha comprato o in unica soluzione magari ai massimi di mercato, ma in più, proprio come dicevo prima, con il meccanismo di acquisto automatico, quindi delle quote che diventavano sempre di più perché il prezzo scendeva, hanno recuperato anche molto prima. Pertanto se andiamo a fare un paragone fra chi investe in unica soluzione sull'azionario che magari si deve un pochino più preoccupare del momento in cui si entra, chi invece investe sull'azionario grazie a un piano di accumulo non ha, diciamo, quest'assillo perché si va a comprare in maniera graduale. Come vuole chiudere, dottor Eggerotto? Volevo chiudere perché mi veniva proprio in mente un altro uso, diciamo, sembra distorto, ma è un uso effettivamente efficiente di quello che è il piano di accumulo, che mi è capitato di fare qualche tempo fa, quindi se c'è qualche ascoltatore potrebbe pure usufruire di questo consiglio, diciamo. Chi oggi fa un mutuo, dice cosa c'entra il mutuo col piano di accumulo? C'entra, c'entra. Chi oggi fa un mutuo e lo fa a un tasso relativamente basso, perché come sappiamo i tassi sono molto bassi, paga una rata che in condizioni normali sarebbe stata più alta, proprio perché i tassi sono molto bassi. A questa rata cosa può fare il cliente? Potrebbe accoppiare una somma da destinare a un piano di accumulo, in modo tale che quando i tassi si dovessero innalzare nuovamente, quindi la rata del mutuo magari diventare un po' più alta perché si è nata di mutuo a tasso variabile, con quello accumulato col piano di accumulo, fra 7-8 anni, si potrebbe andare anche all'estinzione o alle diminuzioni di quello che è stato il finanziamento fatto per il mutuo, proprio per proteggersi da un eventuale rialzo di quelli che potrebbero essere i tassi di interesse. Diciamo un po' più tecnica, però è una soluzione molto valida per questo tipo di situazione. Bene, adesso vi lasciamo alle slide. In chiusura di questa puntata dedicata al piano di accumulo, ringraziamo i nostri consulenti, il dottor Cristian Gerotto e il dottor Sergio Nicosia. Appuntamento alla prossima settimana. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti.